Per venire incontro alle esigenze di contatto con i cittadini, l'IMS mette a disposizione il servizio automatico di prenotazione sportelli. Il servizio è disponibile tutti i giorni 24 ore su 24 senza attesa, chiamando il numero verde IMSS 803-164 da rete fissa o il numero a pagamento 06-164-164 da telefonia mobile. Puoi prenotare l'accesso allo sportello tramite il risponditore automatico vocale. Dovrai fornire codice fiscale e motivo dell'accesso e scegliere giorno e ora dell'appuntamento presso la serie di competenza. Successivamente ti arriverà un SMS con i dettagli della prenotazione. Il servizio di prenotazione è disponibile anche tramite app IMSS Mobile, portale IMSS.it e operatore telefonico del Contact Center. www.imps.it Connessi con te! www.imps.it